Allora, scoprendo che mi hanno rotto i coglioni in 10.000, sapendo che io faccio i video privati, mi hanno bloccato e non mi hanno permesso di rimanere in contatto con le persone, perché ogni volta che faccio le dirette tramite applicazione Facebook, mi bloccano. E il motivo è chiaro, no? Perché se tu fai un video a casa tua, ti bloccano. Se lo fai in giro, non ti dicono niente. E io devo dire a questi sporcaccioni di farsi i cazzi suoi, perché così almeno entra maggiormente parte del coronavirus e non entrano più in contatto con me e altre cose. Se volete condividere questo video, mettetevi un link mi piace e condividete. Altrimenti ve ne accorgerete, sarete perseguitati per sempre da questa violazione che pubblico io. Quindi mi sembra chiaro che ho detto giusto. Vi un saluto da Fabio Luciani e dormite tranquilli. Perché voi, perché tranquillo, è morto. Da secoli, eh? Delinquente!